buonasera amici cripto investitori ben ritrovati a tutti quanti raddrizzo un attimino la telecamera sono un po di fretta come vedete sono arrivato adesso e come al solito ho ritardato quindi credo che d'ora in poi giusto per evitare di prendermi i vostri meritatissimi insulti per il ritardo perché poi mi date della prima donna e quant'altro credo che postici però in live alle 6 e 45 visto che bene o male è sempre questo l'orario a cui arrivo come tutti i venerdì ci troviamo qua belli riuniti tutti insieme per analizzare le news principali della settimana quindi che cosa muove un po il cripto mondo che cosa succede sviluppi nuove tecnologie insomma tutto ciò che in un certo qual modo sta portando avanti lo sviluppo e l'adozione delle credito e naturalmente la vostra cosa preferita perché lo so perché me lo dite sempre il mercato quindi andiamo a dare un'occhiatina ai grafici più interessanti andiamo a vedere la capitalizzazione come si trova bitcoin come si trova che è sempre lì che sta scalando piano pianino 10 dollari alla volta 20 alla volta con candeline piccole verso quella malefica resistenza impenetrabile apparentemente che ci ha respinto già tantissime volte pluritestata quindi che siamo tutti quanti curiosi di vedere come reagiremo quindi ipotizzeremo qualche possibile esito per l'appunto e non ci fermeremo a bitcoin ma osserveremo anche le altcoins chiaramente o meglio quelli quelle configurate in maniera più interessante ultimamente le altcoins sono quelle che hanno dato un po' più di soddisfazione anche perché appunto bitcoin non è che stia facendo dei grossi movimenti la volatilità è un po' bassina prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei contenuti a parte i ritardi ovviamente vi chiedo gentilmente di lasciarmi un like al video che per me è sempre un bell'incentivo a continuare a produrre iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina in modo da ricevere sempre le notifiche per primi e riuscire a vedere istantaneamente i nuovi video che metto e rimanere sempre sul pezzo con le ultime news a proposito di news partiamo proprio da lì come al solito quindi andiamo a vedere quelle news che vi ho selezionato ce n'erano tantine vi dico la verità perché di cose ne sono successe ovviamente non parlo solo di news nel senso stretto del termine ma anche di comunque eventi interessanti e episodi salienti diciamo così allora vi mostro immediatamente che cosa ho selezionato per voi sicuramente molte già le conoscete però mi fa piacere fare questa piccola rassegna proprio perché è un po un punto della situazione inoltre ne possiamo approfittare per discuterle insieme ecco così voi mi dite la vostra perché sapete che il bello del live è proprio anche l'interazione tra me e voi quindi voi potete scrivere nella chat io dopo che ho fatto il mio bel monologo iniziale vi leggo e vi rispondo la prima cosa è che il mitigo jack ovvero il founder di twitter ha deciso di voler assumere tre quattro ingegneri a tempo pieno e un designer a che scopo per contribuire all'ecosistema crypto bitcoin bitcoin in maniera open source e non strettamente legata ad un profitto quindi si tratta davvero di un contributo che ha voluto dare un contributo di persone che ha voluto dare al network di bitcoin se vi interessa qua sotto nei tweet in questo questo specie di thread iniziata da questo tweet ha spiegato un po di cose quindi il perché ha deciso di fare questo e ha introdotto quello che si chiama square crypto e potete seguirlo chiaramente su twitter a questo profilo diceva che stava considerando insomma i suoi progetti della quick e ha chiesto ma qual è la cosa che si può fare per impattare in maniera più positiva sulla community di bitcoin e questo brock m gli ha risposto mike brock gli ha risposto che si potrebbe pagare delle persone per ampliare l'ecosistema e soprattutto aggiungerci qualità perché effettivamente avere persone che ci lavorano a tempo pieno soprattutto qualificate con un profilo tecnico e esperienza magari in già magari in programmazione di bitcoin in network open source in peer to peer in in rete insomma di sicuro è valore aggiunto all'ecosistema e quindi ha deciso di farlo e questa è un'ottima cosa un'iniziativa la prima iniziativa open source della square e indipendente indipendente vedete dai loro obiettivi di business che ha un focus diretto sulla crypto community e sul sull'ecosistema cripto proprio perché lui ci crede veramente tanto e il futuro secondo lui va proprio in questa direzione quindi sono molto contento di questa cosa qui le persone comunque di un certo livello di una certa esposizione pubblica anche nonché dotate ovviamente delle finanze che gli permettono di farlo dovrebbero ecco fare la loro parte in particolare se credono in questo network se credono in questa tecnologia per spingerla tanto comunque di sicuro non andrà in rovina per questo anzi renderà comunque il mondo migliore permettendo uno sviluppo dell'ecosistema cripto nel quale lui stesso crede tantissimo quindi questo mi piace mi piace come filosofia ecco un esempio da seguire spero che altre persone lo seguiranno passiamo infine a infine in seconda battuta ad un'altra persona di spicco ovvero l'herry sanger che è uno dei cofondatori di wikipedia e ha pubblicato sul suo blog un articolo su come cerca di svincolarsi diciamo dal come si può dire dalla continua dal continuo voler pescare dati da parte ovviamente dei provider di servizi web e ci sono vari punti che ovviamente non vi sto a elencare tutti quanti ma vi dico quello che è più strettamente correlato con le cripto ovvero stop using chrome perché stop using chrome perché vabbè chrome è un browser penso il più utilizzato statisticamente adesso non ho visto le percentuali ma mi sembra di aver capito questo e il fatto è che vabbè è di proprietà di google è legato ad un account google ed è pieno comunque di sniffer di dati di data collector e di script di tracking che comunque osservano sempre tutto quello che facciamo mentre navighiamo su google se scusate su google con chrome non solo su google attenzione è proprio lì il punto tutta la nostra navigazione è sempre osservata da google se utilizziamo chrome e inoltre questo ovviamente appesantisce la navigazione stessa guarda caso hanno ha deciso l'herry di passare a brave che è la nuova creazione di branda nike come dovreste sapere se avete visto il mio video su brave e perché ha deciso di utilizzare brave perché implementa tutti quegli ad blocker i tracker i cookie vengono bloccati anche loro le connessioni vengono criptate ti permette di utilizzare come motore di ricerca duck duck go o altri motori di ricerca comunque anonimi implementa la rete tor insomma ha come bandiera diciamo come caratteristica principale con la quale si 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 vende diciamo così si si pubblicizza il preservare la privacy e di dati dell'utente stesso e nel mentre migliorare nella qualità di navigazione perché non ha scelto firefox perché anche firefox non dice che non è stato molto contento perché la mozilla organization dice è molto dominata lo dice in queste righe dalla silicon valley hanno buttato fuori hanno obbligato a uscire diciamo così branda nike che aveva una filosofia molto molto diversa dalla loro che era molto più orientata appunto alla data collection non che al profitto che si poteva ottenere dai dati degli utenti branda nike branda nike invece era esattamente opposto come filosofia infatti è uscito fuori dalla mozilla corporation e ha creato brave facendo sì che si che nascesse questo nuovo browser ovviamente larry sanger l'ha scelto proprio per questi motivi quindi è una buona pubblicità anche per brave e ovviamente poi per il basic attention token che è uno degli use cases secondo me più solidi per le persone che ci sono dietro e per gli steps per i passi e lo sviluppo che stanno facendo che piano piano stanno davvero ottenendo ottimi risultati e magari poi visto che avete molto interesse in brave e basic attention token dedicheremo un altro video in futuro con gli aggiornamenti insomma lo seguiremo passo dopo passo per vedere che cosa sta facendo e fatto sta che ottiene tanti risultati brave ha superato i 5 milioni di download è partita la fase di sperimentazione delle brave rewards su android quindi se scaricate il browser su android potete utilizzare il programma brave rewards per ricompensare i vostri content creators preferiti con una piccola mancetta una micro donazione diciamo così prima su android appunto non era ancora possibile e adesso sì il prossimo step immagino sarà farlo su ios che penso che sia quello lasciato un po più indietro dal punto di vista di queste nuove implementazioni il browser c'è però non è ancora al cento per cento della funzionalità inteso come appunto funzioni aggiuntive come brave rewards a proposito di brave rewards se volete farmi una piccola donazione potete andare su cliccare su questi concina qua del nostro basic attention token sul mio canale e andare a a fare una piccola donazione con questo tasto ecco e a me sicuramente fa piacere e vi ringrazio che altro dire riguardo al discorso di brave direi che ne abbiamo già parlato abbastanza e quindi possiamo passare alla notizia successiva cosa ne dite la notizia successiva riguarda binance o meglio riguarda la nuova ico di binance ospitata su binance scusate non non voglio come si dice non voglio far capire male la cosa perché l'ico è seller network seller network è stata completata appunto sul binance launchpad che è quella piattaforma di token sale che è stata crea una spin off appunto dell'exchange ne abbiamo parlato con thomas recentemente anzi l'altro ieri stesso in un video che avete molto apprezzato ma avete scritto anche in privato facendo alcune domande mi fa molto piacere perché è un argomento davvero interessante secondo me questo sul futuro delle ico che è un mercato che ora come ora vedendolo com'era prima ovvero l'ico in senso stretto del termine con lo smart contract aperta tutti senza nessun limite eccetera era un mercato un po' morto per motivi che tutti quanti li conosciamo già e se avete visto il video li conoscerete ancora meglio adesso quindi binance ha deciso di rilanciare dalle ceneri appunto delle vecchie ico una nuova fenice quindi un un nuovo modello di di token sale basato su un po più di centralizzazione perché c'è binance launchpad di mezzo che prevede che tutti quanti siano già registrati a binance abbiano fatto il kyc esclude alcune persone insomma è centralizzato non si può dire certo di no però ci sono alcuni vantaggi sulla sicurezza alcune garanzie ecco ne abbiamo parlato appunto l'altro ieri con thomas vi invito a guardare il video se non l'avete ancora fatto la cosa di cui volevo parlarvi oggi è che i token seller sono stati venduti in 17 minuti e 35 secondi inutile dire che non conosco nessuno che ci sia riuscito a prenderli non so se voi ci avete provato se voi ci siete riusciti praticamente ci sono stati un po di problemini che hanno fatto storcere un po il naso a molti perché se leggete il feed su twitter di chan pang zao cc o cz che dir si voglia ha buttato fuori alcune news in tempo reale statistiche insomma situazioni ovvero beh innanzitutto la le statistiche finali della token sale sono che 39.003 persone hanno provato ad acquistare hanno partecipato al sale 3.129 sono riuscite quindi 35.000 sono rimasti infelici non ce l'hanno fatta c'era una domanda che è stata la più alta in assoluto che abbia mai visto ha detto sempre cz ci sono stati alcuni problemi legati alla cash che praticamente alcuni utenti avevano bisogno di fare il refresh della pagina di far log out e login di nuovo qualche ritardo di rete insomma c'è stato qualche problemino tecnico legato proprio alla esagerata domanda verso questo token e cz dice proprio questo dice anche se hanno fatto un upgrade rispetto del launchpad rispetto comunque alle precedenti token sale proprio perché c'erano già stati alcuni problemi se avete provato lo saprete anche voi però ahimè non è bastato proprio perché la domanda è sempre più alta quindi vedete anche il discorso che abbiamo fatto con thomas sul possibile rilancio delle ico ospitate su exchange potrebbe davvero essere un trend in esplosione teniamolo d'occhio questo per quanto riguarda seller per quanto riguarda binance visto che ne stiamo parlando ci sarà un altro meetup italiano al quale purtroppo stavolta io non ci sarò però mi sembra di aver capito che ci saranno ancora gli amici di crypto rivista poi ci sono i binance angel cia lucia insomma c'è tutta la community quindi se riuscite ad andare fatelo perché l'ultimo è stato davvero piacevole è stato un momento di condivisione di di networking ecco ci si è conosciuti si è fatto amicizie quant'altro a pescara il 30 di marzo dalle 16 alle 18 hotel carlton via della riviera 35 quindi se vi capita se siete da quelle parti lì fateci un salto che sicuramente passerete due ore piacevoli ultima cosa anche perché se no poi andiamo avanti ore e ora a parlare di notizie e mi sgridate unicredit parliamo di una notizia italiana ecco andiamo torniamo in italia un qualcosa che ha a che fare più con la blockchain stessa che con bitcoin diciamo avevo fatto un piccolo riassuntino stamattina su sulla mia pagina facebook se vi va di seguire insomma ogni tanto butto lì qualche pillola qualche idea di trading qualche cosa che mi passa per la testa e praticamente riguarda appunto la una piattaforma che si chiama we trade che vede come partecipanti principali nonché finanziatori nove banche europee tra cui appunto unicredit che è stata la protagonista della prima transazione commerciale che è stata eseguita appunto su we trade lo scopo di we trade qual è appunto vi ho detto è una blockchain che ha come scopo semplificare le transazioni commerciali in che modo tramite smart contract quindi c'è uno smart contract che mette d'accordo e come si può dire sincronizza le controparti le due controparti quindi compratore e venditore cosa succede succede che il compratore manderà il suo pagamento allo smart contract la il venditore invierà il materiale e una volta che viene confermata in qualche modo la ricezione allora viene sbloccato il pagamento quindi c'è una garanzia in più questo è fatto informaticamente e quindi appunto si tagliano fuori tantissimi intermediari nonché si snellisce tantissimo la procedura perché la si velocizza rendendo tutto digitalizzato tracciato e istantaneo senza il bisogno di attivazioni in più steps che quindi prima c'è la spedizione poi un'altra cosa poi c'è da verificare che succeda questo verificare che succeda quello insomma è tutta burocrazia in meno lo scopo di we trade è proprio questo il semplificare soprattutto per le piccole e medie imprese le transazioni commerciali quindi le compravendite vedete poi tra l'altro qua mostra anche delle delle potenzialità in più ovvero completa visibilità sullo stato della transazione della spedizione quindi c'è anche una una componente di tracking diciamo così fino dalla creazione dell'ordine fino al pagamento e alla consegna quindi il la sperimentazione ha visto appunto come protagonista unicredit che ha acquistato da un fornitore che si chiama steelforce anzi in realtà tramite il gruppo asa che è un produttore di imballaggi metallici hanno fatto un acquisto da un fornitore di asa che appunto steelforce fatto sta che questo acquisto è stato mediato dallo smart contract con successo quindi si vede che anche in italia insomma ci si sta muovendo ci sono i grossi giocatori della finanza che sono interessatissimi e anche l'industria stessa perché è evidente che abbiamo delle soluzioni molto molto più ottime qua ovviamente è un argomento a parte rispetto alle criptovalute in sé perché stiamo parlando di block chain però insomma sulla block chain il pagamento avviene tramite cripto in un certo qual modo oppure se avviene tramite fiat di mezzo ci deve essere comunque una coin oppure un token e quindi è molto molto interessante come prospettiva questo è quanto direi per quanto riguarda le news se avete altre cose da segnalare sapete ci sono sempre i commenti io poi vi leggo adesso darei un'occhiatina al mercato che come vi dicevo è in bilico è sempre lì che approccia sta benedetta resistenza adesso vi condivido anche lo schermo insomma serve un po più di decisione perché questa resistenza continua a respingerci ogni maledetta volta e mi piacerebbe proprio che stavolta la bucassimo entrassimo finalmente in una fase un po più diciamo sostenuta di bull market che è quello che tutti quanti aspettiamo sicuramente da tempo alcuni di voi hanno letto hanno commentato un po di tempo fa avevo letto alcuni commenti dicendo che il bull market è già da mesi che c'è ma in verità stiamo un po adesso la dicitura corretta sarebbe dire che siamo orizzontali stiamo lateralizzando è vero a tendenza comunque crescente perché come vi farò vedere tra poco abbiamo degli higher lows sulla capitalizzazione globale del mercato però insomma appunto abbiamo sempre sto tetto stramaledetto che ci ostacola e ci bam respinge in basso ogni volta che lo approcciamo quindi speriamo in bene prima di iniziare vi butto lì un'altra cosa che mi è venuta in mente ho fatto una piccola affiliazione diciamo così con la ledger ovvero i fornitori del nano s e il futuro nano x come saprete che in realtà non è nulla di che semplicemente se acquistate il ledger nano s o il nano x quando uscirà utilizzando il mio referral link mi date mi girato una parte del del prezzo del ledger stesso quindi è tutto qui tra l'altro visto che molti di voi vi mi hanno chiesto di fare un tutorial sul nano s ho pensato di acquistarne uno apposta perché in realtà non mi piace molto mostrare il mio come ho detto già qualcuno di voi che ha il motivo per cui non ho mai fatto il tutorial perché non lo so non vorrei che mi sfuggisse quella piccola cosa che poi in realtà mi frega perché lì davvero tutto praticamente tutto il mio capitale quindi non mi piace per quello la sicurezza non è mai troppa so che magari sono paranoico ma vabbè e quindi pensavo appunto di acquistarne un altro per farvi questo tutorial e magari fare un piccolo giveaway dove poi ve lo regalo quindi stay tuned mi raccomando che vedremo un po' che succede se lo volete acquistare vi lascio il mio referral link invece nel primo commento e se lo usate vi ringrazio tantissimo passiamo all'analisi del mercato e dei grafici allora vi ricondivido lo schermo immediatamente e partiamo dalla capitalizzazione allora aspettate che ci sono eccoci qua la capitalizzazione rispecchia un po quello che vi ho detto a voce poco fa ovvero ci troviamo sempre a ridosso di questa stravenedetta resistenza che separa questa zona di lateralizzazione da quella che abbiamo chiamato bull zone che è quella zona di vuoto che si è andata a creare dall'ultima congestione a questa attualmente in corso il discorso della tendenza rialzista in quest'ultima congestione è evidenziato dai lower dagli higher lows scusate vedete questo e questo adesso facciamola anche un po più lunga perché in realtà poi vi spiego che cosa ho in mente come scenario più possibile e questo e questo vedete c'è stata qua un'accelerazione mi piace farla disegnarla così tac e tac no bellissimo vedete che non ce la possiamo fare niente volevo fare la faccio col pennello e va vangulo tac così un'accelerazione di trend che significa che questo ha una pendenza inferiore di quello successivo e quindi i massimi scusate i minimi che si sono formati lungo questa retta sono più velocemente in uptrend rispetto a questi quindi indica un'accelerazione di trend banalmente tuttavia non mi convince appieno questo andamento qua e tra poco ve lo faccio vedere su bitcoin più che altro perché bitcoin ha un andamento pressoché identico non vi sto a ripetere tutto il discorso sulla bull zone sulla resistenza perché ve l'ho fatto ormai alla nausea ma andiamo direttamente a vedere bitcoin bitcoin allora ha il medesimo andamento come vi ho detto abbiamo gli higher lows con pendenza crescente sempre quindi con accelerazione di uptrend se vogliamo abbiamo la resistenza sto guardando bitmex quindi i prezzi di bitmex che vi ricordo media vari exchanges ha i volumi maggiori per questo motivo guardo bitmex e la resistenza in questione a quella intorno ai 4.100 barra 4.150 dollari e la stiamo affrontando continuiamo a prenderla zuccate finora conto vabbè qui che ci abbiamo congestionato intorno facciamo che non vale poi toc 1 2 3 4 e in più ci abbiamo provato altre volte 5 6 e adesso stiamo andando verso il settimo test netto di questa resistenza tutti quanti si chiedono ma cederà prima o poi o gli shorters sono così interessati a difendere le loro posizioni short e tutti coloro che hanno acquistato hanno intenzione di fare take profit proprio lì anche questa volta è una domanda che a cui nessuno sa rispondere ovviamente perché altrimenti potremmo diventare tutti ricchi con una semplice operazione ma gli scenari sono due fondamentalmente allora vi dico quello che per me è più probabile secondo la mia sfera di cristallo un po e ma anche secondo l'analisi del grafico allora io mi aspetto che cosa mi aspetto allora osserviamo quest'ultima parte del grafico abbiamo uno due e tre impulsi rialzisti un po con l'ultimo un po in scarico vedete tant'è che i volumi sono diminuiti e vabbè poi è stato subito negato all'approccio con la resistenza dopo questi tre impulsi abbiamo il primo impulso ribassista fortemente ribassista perché guardate quanto è ampio rispetto all'ultimo impulso rialzista quindi questo di fatto inverte la tendenza dell'ultimo periodo rendendola rendendo la pressione dominante quella in vendita quella ribassista dopodiché abbiamo questa formazione un po indecisa incerta titubante con candeline piccole volumi bassi shadows pronunciate abbiamo avuto tantissimi failure swing tantissimi bart insomma è quel periodo di intermezzo dove non ti viene voglia di operare proprio perché sei in pasto alle balene in balia completa delle balene che vogliono farti scattare gli stop loss e che cosa ci dice questa questa area di movimento che non c'è direzionalità non essendoci direzionalità di solito prevale la direzionalità dell'ultimo movimento ovvero questo qui quindi per me quest'area qua è ancora purtroppo una zona ribassista io questa è la mia vision la mia opinione bagno ste frecce maledette la mia opinione sul mercato in essere che questa zona è tutta quanta ribassista quindi non mi stupirei ha fatto che questo questa titubante salita che è durata tanto tempo per fare una salita in termini di ampiezza scarsa nonché in termini di volume ancora più scarsa venga poi sbranata da un'altra candelona rossa in quel caso lì si potrebbero smuovere le acque quindi cosa potrebbe succedere potrebbero saltare fuori i buyers che si sono nascosti gli shorters magari iniziano a fare dei take profit a liquidare posizioni entrare nuove persone appunto in acquisto magari vedendo questo forte supporto verde che è un papabile target l'altro papabile target che mi sono messo in testa per darvi l'idea è il prolungamento della prima trend line quindi vedete che va sempre a finire più o meno qui e quindi ecco io mi auspico un arrivo non per fare il gufo chiaramente ma un arrivo in questa zona quindi qua è un possibile target di un'altra candelona rossa di ritracciamento altresì può succedere che una candelona verde vada a bucare la resistenza e fare un higher high che sarebbe un segno finalmente dell'inversione di nuovo di direzionalità perché andiamo a vincere questo impulso ribassista con un impulso rialzista più forte che fondamentalmente è quello che deve succedere affinché il mercato inverta la direzionalità dell'ultimo movimento ok quindi ricapitolando il consolidamento è in atto perché c'è una resistenza inviolata minimi crescenti quindi questo l'interezza del consolidamento è a tendenza rialzista di reversal quindi sembra che la volontà ci sia tuttavia se inquadriamo anziché l'interezza del reversal l'ultima parte quella nella quale tra l'altro la velocità del trend stava aumentando il mio timore è che la velocità del trend si è aumentata per poco perché perché adesso stiamo correggendo e la direzionalità dell'ultimo periodo quindi da qui in poi è imposta dal movimento più forte in essere quindi da questa candelona rossa che spinge verso il basso quindi tecnicamente questa parte qua è un ritracciamento ancora di questa botta rossa quindi attenzione a non farsi ingannare perché molti sono bullish adesso io anche se vi devo dire la verità però attenzione a non aprire posizioni long in vicinanza di una resistenza che ha una follia secondo me le posizioni long si aprono al breakout della resistenza oppure al retest oppure insomma in range lows ci sono tutta una serie di possibili setup magari li vedremo in video a parte anzi vorrei proprio fargli video sui setup il primo l'ha fatto gli altri seguiranno in prossimità delle resistenze si osserva l'approccio con la resistenza che quindi se ha successo oppure no o alla peggio si opera short quindi se c'è qualche shorter iper convinto questo è un punto per cui si potrebbe operare short io lo farei vi dico la verità no 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 e ancora no ma per quale motivo per il motivo che abbiamo approcciato questa stravenedetta resistenza per niente po po di meno che sette volte una resistenza ogni volta che la si approccia si indebolisce e quindi più l'approcci e più è probabile che venga mangiata via una volta per tutte io sinceramente lo spero perché la migliore operatività auspicabile è proprio al breakout ovvero io mi aspetto che se rompiamo questa resistenza se ne vedranno davvero delle belle perché mi immagino anzi non me lo immagino neanche in verità quanti stop loss di shorter ci saranno qua sopra quanti stop by di chi vuole entrare ci saranno insomma penso che ci sia una liquidità disumana che davvero se rompiamo con vigore questa resistenza qui si vedrà della bella turbolenza della bella volatilità dei bei volumi io non vedo l'ora di rivedere un po di brio in questo benedetto mercato fino ad allora però attenzione assolutamente no per me è no ovviamente se qualcuno è talmente aggressivo e talmente crede nel breakout che vuole entrare long adesso ognuno ha la sua testa per ragionare per gestire le sue posizioni io vi dico quello che farei io invece ritornando a noi nel caso in cui la mia sfera di cristallo abbia ragione e quindi arriva un candelozzo rosso che ci demolisce questa trend line quindi questa accelerazione in atto e ritorniamo su una linea più umana non so come chiamarla insomma su questa linea che congiungeva i precedenti minimi io potrei valutare un ingresso long in questa area con uno stop loss qua sotto quella sarebbe una posizione che mi piacerebbe assai ok quindi andrei a fare una situazione di questo tipo con stop loss qua sotto ad esempio anche qui vedo che è sotto ai minimi e take profits insomma magari il primo potrebbe essere qui e poi qui e poi eventualmente abbiamo il benedetto breakout però è una bella posizione questa quindi ecco attenzione a non farsi prendere troppo né da una parte quindi né dal fatto che siamo impostati bene siamo vicini alla resistenza e quindi urlare al long e fiondarsi dentro al mercato in preda al hype perché altrimenti finiamo bruciati ma nemmeno se dovesse arrivare il candelone rosso e dire nuovi minimi e urlare al disastro bisogna cogliere le opportunità bisogna guardare analizzare vedere dove ci sono le migliori impostazioni e non le vere e proprie occasioni ok questo per quanto riguarda bitcoin per quanto riguarda altre coins allora io ho selezionato allora andiamo a vedere andiamo a vedere le maggiori insomma bnb bnb vedete ha fatto un costrutto non bellissimo cioè questo in particolare ha fatto questo rising wedge rotto al ribasso quindi questo per me è un segno di potenziale inversione attenzione bnb lasciamola da parte ok non si può shortare ahimè lasciamola da parte non è il caso di entrare ora poi che altro abbiamo litecoin a proposito di non è il caso di entrare ora dunque litecoin l'abbiamo vista in varie analisi cosa abbiamo visto che abbiamo la il prezzo che sale l'rsi che diverge i volumi che divergono ci piace uno scenario così a me nemmeno un po chi vuole shortare in maniera aggressiva potrebbe avere occasione per farlo chi sta pensando di aprire posizioni long da qualche altra parte e sta aspettando una posizione di hedging short ovviamente potrebbe pensare di utilizzare litecoin a questo scopo ma per me un ingresso long è no aspetterei un bel ritracciamento corposo anche vi dico la verità perché abbiamo avuto un una corsa insomma notevole per per litecoin quindi se andiamo a guardare fibonacci andiamo a vedere che la zona 78 6 61 8 è questa quindi una zona di ritracciamento papabile potrebbe essere allora questo punto questo punto e questo punto ok sono quelle più come si può dire significative questo tra l'altro se non vado errato a validità settimanale vado errato perché in realtà sono vabbè sono spikes però è storico chiamiamolo così è da tempo che questo livello di prezzo si è creato questo invece è molto più recente e coincide comunque con 61 8 più o meno del ritracciamento di fibonacci dell'intero movimento quindi ci sta quest'altro che ho messo giù come arancione dorato invece ecco è di media media durata però è un altro punto valido quindi volendo si potrebbe che ne so frammentare gli ingressi in varie posizioni la cosa da portarsi a casa che adesso long no si aspetta aspettiamo di vederne l'esito perché il fatto che i volumi siano in decremento col prezzo in aumento significa che ogni leg up ovvero ogni impulso rialzista è accompagnato da minor spinta il che non ci piace l'up trend sta esaurendo la sua forza sta esaurendo la sua forza finché i sellers non iniziano a spingere giù spingere giù e poi con la forza in buy che si esaurisce la forza in sell che si inizia a mostrare in grafico si traduce con quei pattern di inversione che può essere magari un test e spalle magari adesso fa tac 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 può essere un rising wedge può essere insomma ce ne sono tanti fatto sta che questo è un segno premonitore da non trascurare va bene come dal punto di vista del rischio per me è una follia entrare long adesso poi cos'altro abbiamo di interessante allora avevo visto stellar vabbè che guardate che bel ritracciamentino che ha fatto qui engulfing con volumi insomma ni fatto sta che vedete take profit 1 take profit 2 della posizione che avevamo uspicato al tempo allo studio vi ricordate di questo pattern sono stati presi e io sono contento a dirvi la verità perché stellar per me è sempre una coin che vale la pena osservare seguire e insomma salvare nella propria watch list di altro abbiamo allora ecco zrx zrx è bizzarro perché lo avevamo seguito avevamo ipotizzato un'operatività su questo breakout non breakout che infatti sarebbe andata male è andata male anzi perché sono scattati entrambi gli stop loss la settimana scorsa avevamo fatto un piccolo aggiornamento con una nuova possibile operatività che non so se qualcuno poi ha seguito oppure no la nuova possibile operatività era praticamente inversa a questo ovvero ingresso su questo stop loss stop loss sotto al minimo era un'operatività più di larga manica primo take profit in questa zona insomma per avere per portare fuori il rischio ecco quindi questa ora come ora è la posizione vigente più interessante quella che invece si era ipotizzata qua cercando di anticipare il breakout cosa che col senno di poi è stata sbagliata è andata male e alla fine può capitare si sa benissimo che non esiste mai certezza il target era questo quindi adesso il primo target diventa questo al breakout al completamento di questo pattern di broadming wedge rimane quest'altro breakout zillica zillica è interessante perché aveva questo livello di prezzo qui che faceva da divisore tra l'area di minimo questa specie di testa e spalle rovesciato e l'area di ripresa che è andata nuovamente quindi anche qui avevamo tenuto d'occhio questo livello qua come livello di maggior significatività ed effettivamente qua è servito ha fatto un verre test ha penetrato molto quindi uno stop loss qui sarebbe stato mangiato clamorosamente ma a questo livello uno stop loss più sensato era sotto ai minimi visto che comunque ci troviamo ancora nei pressi di questi ultimi di altre monete interessanti allora cosa abbiamo o mai sgo che vedo che ha fatto un 4 per cento ma in realtà è sempre qui che lotta con i suoi minimi e con i suoi demoni quindi abbiamo qua una zona di prezzo interessante che potrebbe essere ecco vedete sì la prima da tenere d'occhio quindi io sinceramente prima che non la supera cioè fin tanto che non la supera non mi viene molta voglia di operare su o mai sgo a dire il vero nio cosa ci dice nio ci dice che lateralizza anche lui con tendenza di fondo buona tutto sommato vedete che abbiamo questo trend crescente ancora in atto siamo effettivamente dentro un canale sufficientemente delineato guardate è abbastanza preciso come canale e non è ancora stato violato al ribasso il che non mi c'è fatto e quindi insomma vedo che molti hanno approfittato del bounce sulla trend line vediamo come evolve a una moneta che sapete a me interessa abbastanza per chi non fosse ancora entrato e volesse entrare vedete qua abbiamo una resistenza molto significativa il cui breakout potrebbe indurre a voler aprire posizioni proprio basate su di lei quindi un eventuale tac tac ci potrebbe far entrare qui come sapete io prediligo sempre le resistenze su porti statici rispetto alle trend lines e direi che questo potrebbe essere quanto potremmo passare alle vostre domande visto che ne avevo viste già un po mentre osservavo ecco no ethereum dai prima di passare alle domande visto che è un'altra delle bigs in realtà non non ci piace granché ethereum perché ha una direzionalità dell'ultimo movimento fortemente ribassista abbiamo il candelone rosso che domina abbiamo dei tentativi sì di ripresa ma con degli high dei lower highs scusate e quindi non non ci piace granché andiamo a vedere che cosa avete da chiederci da chiedermi vediamo un po allora scusate se ecco ogni tanto mi perdo qualche domanda mentre vi leggo ma perché me ne sono accorto dopo ci sono un po di filtri ho visto su youtube filtri automatici quindi se alcuni commenti contengono magari un punto di troppo cose così lui me li filtra e quindi non li vedo poi ogni tanto mi si sballa il la visualizzazione quindi scusate davvero non faccio apposta non leggerli ma ogni tanto mi salta proprio c'è molta gente demoralizzata che non vede la luce non vede luce alla fine del tunnel credi veramente che ci sarà una nuova burran che farà nuovi massimi allora i nuovi massimi sono ancora un discorso abbastanza utopistico ed è veramente presto per parlare di nuovi massimi però io credo che ci sarà dal punto di vista proprio al di là adesso del grafico che abbiamo guardato adesso che abbiamo capito che comunque è impostato bene e se rompe quella resistenza dei 4.100 potrebbe innescare una nuova burran locale cioè di breve di breve orizzonte non stiamo parlando ovviamente di un anno intero di burran perché a quello poi va confermato di volta in volta è fatta a fasi ogni fase deve confermare la precedente rompendo resistenze tracciando higher lows e higher highs e quant'altro però dal punto di vista invece meno focalizzato sul grafico e più generale io credo che ci sarà una nuova ondata di domanda che sarà guidata da oltre alla volontà di investire sul bitcoin stesso di speculare sul bitcoin stesso di voler utilizzare che penso che sarà una cosa molto molto più importante della speculazione fino a se stessa perché introdurrà una maggior forza di holding chiamiamola così piuttosto che il comprarlo solo per volerlo vendere a prezzo maggiore che invece è la speculazione questo grazie a tutti gli use cases che ne stanno saltando fuori tutti gli ecosistemi che si stanno sviluppando in quest'anno questo anno il 2019 è il primo anno in cui su larga scala si sono visti degli utilizzi concreti regolamentati legiferati e perpetrati comunque anche da entità importanti da aziende importanti da da banche enti governativi che poi siano bene o male è un discorso a parte però sono saltati fuori quindi come si può dire non stiamo più parlando soltanto di bitcoin futures sul bitcoin il i fondi il gli etf per per investire speculare su bitcoin ma stiamo parlando di usare bitcoin questo credo che sarà il driver il catalizzatore della prossima bull run che credo forme fortemente ci sarà parlare di nuovi massimi chiaramente non me la sento io vedo comunque una crescita nel tempo del suo valore proprio guidata dalla domanda e dall'ampliarsi dei casi d'uso oltre alla mera speculazione quindi non parlo di cifre perché non posso predire il futuro io non sono un oracolo ma vi dico quello che penso io accumulare 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 questa è la parola d'ordine mi trovi abbastanza d'accordo se uno vuole se uno ci crede è un buon momento per accumulare un po alla volta e quant'altro so che trx non ti piace però potresti dargli un'occhiata ho fatto un piccolo acquisto per meri fini speculativi perché il grafico e la rsi intraday mi sembravano allettanti ci diamo subito un'occhiata allora trx è vero non mi piace granché come moneta però effettivamente allora condivido il grafichino ci troviamo in fase di ritracciamento bello bello grosso insomma vedete abbiamo fatto un pump c'era un po il l'eccitazione da bittorrent qua in quanto era il primo progetto che doveva far partire bainers launchpad che ha fatto un po è stato un bel cocktail prendi tron prendi bainers prendi le ic o metti tutto insieme e viene fuori un qualcosa di interessante come vedete solo che poi ovviamente ha ritracciato vista la portata comunque dell'aumento e ci troviamo nella zona 61 8 50 che diciamo non è la mia zona di ritracciamento ideale però insomma non esistono regole assolute oggi vedo una candelina bella nel senso dal punto di vista tecnico che è un engulfing bullish dopo una candela rossa con alto volume andiamo a vedere visto che parlavi di intraday un grafico un po più vicino allora vedi anche qua parliamo di volumi alti in quest'ultimo impulsino a ribasso e poi un rimbalzo così ti dico la verità io non avrei acquistato perché tra l'altro anche guardando il grafico di quattro ore qua noto una zona di resistenza un flip supporto resistenza e questo rischia di essere un rimbalzo dal basso quindi una cosa di questo tipo tra l'altro se andiamo a vedere di nuovo il grafico giornaliero il downtrend line non mi sembra violata quindi insomma è stata una mossa bella aggressiva poi oddio magari tu parli di operatività ancora più breve quindi adesso magari andiamo a dare un'occhiata anche a quello adesso in realtà questa non ha molto senso che qua tracciare una trend line non è facile perché si c'è il downtrend che si sta indebolendo un po e forse si sta formando anche qua un cuneo è difficile tracciare una downtrend line perché collegare i massimi abbiamo qua una forza elevatissima poi abbiamo un downtrend un po meno potente che a questo quindi vedete che si è anche qui c'è un discorso di indebolimento della della tendenza ribassista prima aveva questa pendenza e poi questa il fatto è che siamo comunque in tendenza ribassista abbiamo lower lows e lower highs quindi non c'è segno per ora di voler ritornare almeno dal punto di vista daily dal punto di vista daily abbiamo fatto anche qua un bel support to resistance flip quindi c'è il rischio elevato di andarci a cozzare contro con la testa andiamo a vedere sul brevissimo andiamo a fare quest'altro esperimento vedete allora concitazione con bel volume poi abbiamo avuto qui un una ricomparsa di buyers però sempre vede con volumi un po più bassi rispetto a questo picco qua sarebbe interessante vedere ecco vedete anche sull'orario questo questo livello di prezzo diventa importante quindi secondo me la cosa più interessante la prima cosa interessante per valutare un acquisto poteva essere il la reazione con questo livello di prezzo acquistare prima del breakout da qui potrebbe risultare rischioso perché al contrario questo poteva essere un segnale di short cioè entrare short qua con stop loss e che ne so qua sopra ad esempio e sfruttare un eventuale ulteriore leg down sinceramente non non avrei acquistato ti dico la verità poi non so magari appunto guardare un time frame ancora più basso hai parlato di intra dei non lo so sicuramente avrei avuto i tuoi motivi andiamo avanti con le domande allora è proprio in questi momenti in cui tutti hanno mollato che il mercato gioca al contrario e fotte tutti è proprio vero e ne abbiamo avuto tante tante prove anzi direi che c'è quasi fin troppo poco sangue nelle strade ora per una burran anche questa è una considerazione interessante secondo voi cos'è che può davvero catalizzare una burran ci vuole la disperazione ci vuole la capitolazione insomma oppure ci vuole un po di entusiasmo cos'è che ci vuole il sentimento concorde o il sentimento opposto ditemelo sono curioso di vedere cosa ne pensate cosa ne pensi di stratis sia a livello fondamentale che grafico a livello fondamentale mi piace una platform coin orientata alle aziende quindi è un block chain as a service sì il servizio quello e ecco è orientata appunto ai business prevede delle dei sistemi di implementazione dell'identità su block chain la possibilità di scrivere codice di programmarla in c in c più più c sharp insomma in linguaggi di programmazione ampliamento utilizzati la possibilità di creare side chain è pensata appunto per un ambiente business non per creare la mega block chain per tutti per avere appunto una chain per l'azienda che poi comunica eventualmente con la main chain di stratis a livello grafico quindi andiamo a dare un'occhiata a come sta andando perché sono curioso anch'io non ne abbiamo più parlato ecco sta lateralizzando sopra ai minimi quindi in verità a livello grafico non è affatto male cos'è successo è successo che abbiamo fatto questa zona qua di minimo poi bam una sparata e poi una lateralizzazione qua sopra i minimi però quindi c'è stato questo movimento e che non è male ok anzi è un setup molto molto bello l'unica cosa che i volumi sono un po scarsini ahimè non so quanto quanto sia effettivamente come volume andiamo a vedere giusto per curiosità stratis stratis andiamo giù andiamo giù andiamo giù andiamo giù è importante è il volume perché ecco vedete un po basse 126 bitcoin quindi la conformazione è bella perché questa è una è uno dei miei setup preferiti ne abbiamo parlato anche se c'è questo spike di mezzo comunque più o meno però ahimè il volume è pressoché nullo quindi è veramente facile buttarlo giù se ci fosse un volume più alto direi che è un ottimo entry questo con stop loss chiaramente qua o comunque in questa zona qua dei sotto i minimi di consolidamento sotto questo double bottom e poi vedi take profit a salire però la scarsità di volumi mi mi fa storcere un po di più il naso purtroppo quindi continuo a predilire questi queste tipologie di monete quindi quelle che di cui mi piacciono i fondamentali ma hanno scarsi volumi come piccole scommesse diciamo così da prendere mettere da parte e far fruttare eventualmente nel tempo piuttosto che per speculare appunto sui sui grafici di breve allora i buy non entrano seppur essendo nell'order book il prezzo continua a rimbalzare l'order book a livello di precedenza funziona come una coda laddove prima metti l'ordine e più avanti 6 allora no in realtà secondo me non c'è una regola di precedenza sull'order book cioè se intendi cioè se ci sono ordini a tre che ne so a un certo a un prezzo x e io pure metto l'ordine al prezzo x non è che c'è un first in first out c'è una penso sia casuale no il l'ordine che viene fillato poi al momento in cui qualcuno vende sul tuo limit vai o viceversa ovviamente credo che sia proprio così almeno per me è così perché una volta mi ricordo che avevo fatto un ping pong non mi ricordo con quale moneta che valeva pochi satoshi e c'erano un satoshi sopra un satoshi sotto ordini per un controvalore totale di 200 300 bitcoin io ci ho messo il mio ordine briciola ovviamente e mi è partito subito quindi di certo non ha prima fillato tutti gli altri il venerdì è l'unico giorno in cui non ascolto la zanzara in diretta per il live grande questo è un onore per me seriamente ma questo vet ecco vet ha una coin interessante invece andiamola a vedere mi sono dimenticato graficamente in una bella posizione perché perché allora ha fatto un bel breakout anche qui avevamo individuato dei livelli già quando ci trovavamo qua il primo era questo infatti sono ancora tutti rossi perché non l'ho più aggiornato il grafico il primo era questo chiaramente perché tac 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 ci abbiamo cozzato dentro mille mila volte se andate a vedere indietro sulla sulla mia pagina facebook lo trovate adesso non so se c'è una funzione di ricerca in realtà sono abbastanza una capra di facebook a vi dico la verità se c'è una funzione di ricerca e voi cercate vet o v chain lo dovreste trovare dovreste trovare tutto è non voglio star qui a perdere secoli a cercare appunto il mio il mio v chain i miei post su v chain ma per dire che questo costrutto di potenziale reversal è stato violato a rialzo con una bella candelona con volume ha fatto un retest e adesso abbiamo tracciato un higher high quindi direi che abbiamo un inizio di uptrend confermato adesso si aspetta l'hier low vediamo dove arriva l'hier high poi si aspetta appunto l'hier low che magari potrebbe essere in concomitanza con questa resistenza ma non per forza perché non è proprio fortissima magari si attesta in questa zona qui insomma sulla chiusura di questa candela e potrebbe essere uno spunto di entry purtroppo ecco ora abbiamo fatto un bel pump in alto ci siamo un po allontanati dai minimi quindi piazzare lo stop loss può diventare più difficile i miei stop loss preferiti per evitare di cadere vittima degli stop antes delle balenottere sono sempre sotto i minimi o comunque distanti un po larghi per fare un po uno swing trading piuttosto che un trade di breve che magari potrebbe avere uno stop loss già qua sotto piuttosto che qua nelle vicinanze insomma è più rischioso perché basta una lower shadow un po più pronunciata un flash crash improvviso che ci liquida la posizione fatto sta che è interessante anche dal punto di vista di volumi fondamentalmente mi piace lo sapete già e quindi da tenere d'occhio l'eventuale ritracciamento questo per quanto riguarda di chain prendo le ultime domande poi vi saluto perché abbiamo fatto l'ora ormai allora neo usdt binance accumulazione a dump in arrivo andiamo a darci un occhio dai perché in usdt non lo guardo mai e lo guardo sempre in bitcoin neo bitcoin è impostato bene neo usdt immagino anche perché se il dollaro poi segue ovviamente bitcoin li metti insieme allora abbiamo avuto il flash pump qua che dunque ha dovuto a bitcoin non mi ricordo se c'è stato un pampli fatto sta che abbiamo anche qui una trend line bella concreta che ha questa e con questa anomalia di lateralizzazione e abbiamo una resistenza fortina no che è questa qua insomma è difficile definirla con esattezza però la zona è questa quindi per me è sì se la buchiamo con violenza se ci chiudiamo sopra in maniera decisa quindi voglio vedere una cosa così e non ovviamente non facciamo così come è già successo qua ma ci gravitiamo per un po su magari accumuliamo e allora ci potrebbe stare un entry con stop loss ad esempio qua piuttosto che qua piuttosto che qua insomma a seconda poi dell'operatività che uno ha e take profit a salire che di spazio ce n'è vedete qua abbiamo una prima zona di resistenza notevole e qua di resistenza intermedia perché c'è questo piccolo piccolo come si può chiamare ma order block è già forse troppo perché è davvero piccolo fatto sta che torniamo a noi questo era neo allora ho assistito a un'analisi di bitcoin secondo le tecniche di gan si diceva che bitcoin ha già registrato il minimo a dicembre e crescerà lentamente fino a pareggiare l'all time high a metà 2020 che cosa ne pensi mi sembra un po azzardata come come previsione come si fa a dire adesso mi infiamo poi quando leggo le previsioni nel 2020 questo è puro puro nostradamus insomma le tecniche di gan nulla nulla da togliere io non ho visto l'analisi esattamente cosa diceva però non sono fatte neanche loro per prevedere il futuro non esiste un'analisi che ha lo scopo di prevedere il futuro lo scopo è valutare probabilità di uno scenario un altro ma non così lontani nel tempo perché può succedere qualsiasi cosa domani una candela può cambiare completamente l'impostazione del mercato lo sapete meglio di me dare una probabilità ad ogni scenario in atto a breve comunque a breve medio termine e quindi non lo so la mia idea è che non lo so non mi piace granché ragazzi iscrivetevi a brave browser e aiutate luca con le donazioni di bat se lo fate vi ringrazio molto secondo me più contento se gli doniamo un po di battone questa era bella poi magari prima o poi qualcuno accetterà anche i bat chi lo sa non si può dire sarebbe adoption anche quello di sicuro qualcuno segue ag coin in realtà non la seguo non ce l'ho molto presente può darsi che tu abbia ragione sì dai potrebbe essere un'idea di olo c'è in cosa ne pensi a fine gennaio è passata da 15 sat a 46 sat e adesso è stabile intorno ai 30 entrare o aspettare allora andiamo a vedere dai diamoci un occhio a holo holo allora 30 sat vediamo dunque dal punto di vista grafico andiamo a fare un fibonaccio 61 e 8 più o meno ha respinto secondo me faccio il gufo della situazione secondo me andiamo ancora un po più giù così a naso perché non mi sembra ancora scarico del tutto il down trend mi sembra ancora non lo so che abbia ancora qualcosa da dire io aspetterei dei segnali un po più concreti in realtà e lo aspetterei più in basso tipo qua in questa zona sotto i 25 adesso per me ancora presto così a naso fondamentalmente non la seguo e quindi magari mi sono perso qualcosa non vorrei dire delle castronerie magari ci sono in programma dei rilasci pazzeschi ok però graficamente non non mi dice molto ti dico la verità riguardo al sistema referral di bravio da utente non creator posso comunque guadagnare bat invitando allora in verità si può guadagnare il referral link viene creato nel momento in cui si fa il profilo da creator quindi se io vado a mettere il vado ad aggiungere una mia proprietà che può essere un sito web piuttosto che un canale youtube per adesso quella proprietà è legata un referral link quindi se una persona scarica brave col tuo referral link ti conta ovviamente come tuo affiliato tuo referd chiamiamolo come vogliamo e da utente non creator mi viene in mente ti crei un canale youtube anche con zero iscritti e quant'altro e crea referral link da lì o no mi sembra che ci sia questa possibilità non penso che sia escluso questi bat guadagnati servono solo per le donazioni e hanno scadenza o rimarranno sul wallet allora il quali guadagnati con referral link non hanno scadenza e non servono solo per le donazioni quindi te li puoi anche intascare a tutti gli effetti e al contrario di quella sovvenzione che ti viene fatta invece quando scarichi il browser cioè se tu scarichi brave adesso su android ad esempio che c'è la fase di sperimentazione android ti danno cos'è 5 dollari in bat sarà 25 bat mi pare però quelli li devi usare li devi donare non puoi ovviamente intascarli è fatto per incentivare cioè esiste praticamente un pool creato dalla brave foundation o dalla bat foundation e praticamente quel pool viene distribuito a vari utenti proprio per incentivare l'utilizzo del sistema e poi viene anche rimpolpato con parte dei profitti ovviamente della fondazione e viene rimpolpato di nuovo con quei bat che non vengono utilizzati da coloro a cui sono stati sovvenzionati nel caso in cui sta cosa funziona solo come creator io posso linkare il mio youtube sul quale non carico niente nel caso in cui sta cosa funziona solo come creator io posso linkare il mio youtube sul quale non carico niente giusto per rientrare nel programma secondo me sì è quello che ti ho detto prima io penso proprio che ci sia questa possibilità ciao claudio anche a te allora crash finalmente ma non ancora però te l'ho detto occhio che ci potrebbe essere un'altra una leg down cosa ne pensi di token pay e oddio ecco mi è saltato ancora e di bitcoin non le conosco ti dico la verità ps ricordo che a suo tempo il supporto a 6000 l'ha sfondato come se manco ci fosse e beh oddio prima ha fatto un bel po di rimbalzi è prima di sfondarlo poi ci ha dato dentro una fiamma che è arrivato a fare un altro meno 50 per cento quasi la tua visione short nel breve perfetta è però insomma si sa bene che non esiste certezza in questo mondo io la vedo così però poi può essere anche di no ma se tutti nell'approcciare una resistenza significativa ragioniamo nei termini della dell'analisi tecnica aspettando il break out chi è che in primis rischi i propri i propri fondi nel dare la direzione al movimento questa è una domanda curiosa perché effettivamente se tutti aspettano chi è il primo che compramo ovviamente poi il il pubblico di investitori di trader di speculatori ha fatto da diversi personaggi ci siamo io te tutti voi che mi seguite immagino che siamo i pesci piccoli con le nostre piccole somme che cerchiamo di seguire i movimenti ma poi ci sono i pesci grossi che li creano i movimenti non so se avete visto quel video che ho fatto sulla sull'order flow istituzionale chiamiamolo così nel quale ho cercato di impersonarmi in un fondo quindi in un in chi ha grosse disponibilità di capitali e cercare di capire come avrei operato quella secondo me è la modalità con cui operano ovvero lo stop hunting l'andare a generare liquidità in un verso per poi pompare il mercato nell'altro è tutta una serie di meccanismi e secondo me sono proprio loro che creano i movimenti noi ovviamente non possiamo creare i movimenti non ci resta che seguirli e le analisi di quel tipo per seguire i movimenti sono la cosa migliore poi chiaramente l'investitore piccolo così anche come i grandi in realtà i grandi secondo me agiscono tutti bene o male in maniera simile perché poi matematicamente hanno più possibilità di successo gli investitori piccoli trader piccoli come noi invece si distribuiscono su uno spettro più ampio ovvero ci sono quelli aggressivi ci sono quelli conservativi ci sono quelli di lungo termine di breve termine e di conseguenza anche lì si crea molta varianza nel grafico alla fine si traduce tutto con la varianza nel movimento potrebbe essere che magari appunto a un piccolo segnale tanti piccoli trader entrano in maniera aggressiva generano il movimento poi fanno entrare quello in maniera conservativa dipende tutto da quanta distanza c'è dal reale pool di liquidità da quanto spingono i grossi grossi capitali da tanti fattori difficilmente prevedibili comunque secondo me è così che si originano i movimenti prendo l'ultima domanda l'ultimissima allora cuco insersa fatto tre per e più come il bnb ci siamo è lì il discorso del del trend sull'exchange coins potrebbe essere solo all'inizio io bnb non lo prenderei per via dell'iper estensione però io terrei davvero d'occhio gli altri le altre exchange coins avete visto che anche l'uobito che ne ha fatto un bel salto e potrebbe essere un settore molto molto caldo vale la pena osservarlo un parere ultima un parere su maker secondo te conviene holdarla la mia risposta è sì è un bel progetto e l'ha detto più utilizzata è uno degli use cases più interessanti in assoluto secondo me per la blockchain ethereum e mi piace molto è fantastica maker è davvero un ecosistema interessante approfonditelo se non lo conoscete ragazzi vi ringrazio nuovamente per avermi seguito per seguirmi sempre per sopportare questi video infinitamente lunghi questa settimana ve ne ho sparati pure due anche lo scorso con thomas è durato un'infinità e seguitemi sempre iscrivetevi lasciatemi mi piace che lo apprezzo tantissimo campanellina per non perdervi video che ne pubblico di solito tre alla settimana cerco di restare sul pezzo con gli ultimi movimenti ogni tanto c'è qualche edizione straordinaria perché appunto magari c'è un pump improvviso e cerco di rifare il focus in vista quindi col senno di poi dopo questo pump dopo il dump a seconda di cosa succede quindi campanellina mi raccomando così ricevete le notifiche non vi perdete i video quando escono se volete donarmi qualche bat mi fa tantissimo piacere questo non toglierà il fatto che i miei contenuti saranno sempre comunque per sempre gratuiti a tutti e tra poco creerò un canale telegram quindi iscrivetevi a questo canale perché prima voglio arrivare alla nuova soglia di 9000 iscritti così facciamo il giveaway quello con le power hours per intenderci dove vi airdro però un po di satoshi a chi vincerà dopo il giveaway parliamo del canale telegram ci siamo davvero quasi quindi non perdetevelo se invece avete in programma di acquistare il ledger che è un qualcosa di estremamente utile se non ce l'avete pensateci usate il mio riferro al link dai così mi girate quel 10 per cento quel quei 5 euro di per prendermi un cocktail una sera o una birra detto questo vi ringrazio ancora di cuore per avermi seguito ci vediamo presto a lunedì buon weekend a tutti quanti e speriamo che la resistenza caschi ragazzi è stato un piacere